Amici, abbiamo finito di pranzare, ora siamo arrivati alla frutta, al melone, certo. Prima che mangi tutto il paro mio cugnato, come mangio io? O me soggera? O me moglie, anzi non mi... Ecco, vedi, vieni per il simulone, vieni, fa. La soggera. Non lo soggera? La soggera. La soggera, la soggera la stanno mangiando. La soggera, la soggera la stanno mangiando. Tutto parlo. Ho una soffiglia. Sì, ho una soffiglia. Vieni qua, bella, vieni qua. Vieni, bella, vieni. E' un'altra cosa. T'hai legato? T'hai legato? Francesca senza capiglie, amici. Francesca senza capiglie. Certo. Allora, è preciso. Comunque, amici, mi mangio questo melone, vi saluto, buon pomeriggio a tutti, a più tardi. Certo.